In apertura di seconda parte di sport per questo lunedì 15 novembre, è doveroso dedicarla a Valentino Rossi. L'ultima curva, grazie Vale, riporta con tanto di scatto simbolico il messaggero. L'ultima gara da parte di Valentino Rossi, emblema dello sport mondiale, planetario per quanto riguarda il motociclismo. Lascio una leggenda dello sport, adesso siamo tutti più soli, un po' pilota, un po' rockstar, ha fatto grande l'Italia nel mondo, ricordi il messaggero. Trascinatore come Coppi, Tomba e Pellegrini, i grandissimi dello sport tricolore, la lettera d'addio della sua moto, quante avventure con te, si legge nel virgolettato. Unico a vincere in quattro categorie diverse, lo attende un futuro da papà e forse anche sulle quattro ruote, si legge proprio sul messaggero, che lo celebra anche con una crono storia delle sue imprese sportive. Non la celebrazione a Valencia, l'addio diventa una festa nell'ultima gara nella MotoGP vissuta ieri, quasi quasi mi ritiro anche l'anno prossimo, ha detto Rossi, proprio a corredo dell'ultima gara. Decimo è arrivato Valentino nella gara vinta dall'erede Bagnaia, ma quali lacrime? Questa è un'occasione per fare Baldoria, ha dichiarati. Corri da stadio, l'abbraccio con la compagna, la pace poi con il duellante di tante battaglie stoner, soltanto sorrisi per il gran finale e anche, come riporta da questa foto, nel box ci sono due fenomeni, perché a salutare Valentino Rossi è venuto niente poco di meno che Luis Nasario da Lima per tutti, Ronaldo il fenomeno grande campione calcistico. Vittorio e Gheghe, tante risate, un fenomeno globale, vincente in piste fuori, fenomeno mondiale, nel suo ultimo giorno lo hanno omaggiato in tanti, da Ronaldo a Federer, da Tom Cruise a Keanu Reeves, dunque per Valentino Rossi, tutti presenti per Altra Valencia, dalle moto ai suoi allievi, con tanto di foto celebrativa dei suoi allievi con i caschi. Questo dunque per celebrare Valentino Rossi anche nel nostro piccolo, passiamo però ora al Corriere dell'Umbria per vedere quello che riguarda lo sport Umbro Umbro e per quanto riguarda la Serie C e il Gubbio Calcio. Gubbio in crisi di risultati, ora voglio capire, ha detto il Presidente Notari, Summit con lo staff tecnico, ci sono delle difficoltà, vanno analizzate. Domenica trasferta a Viterbo contro l'ultima in classifica, ritiro, vedremo il da farsi, ha detto il Presidente. Due punti in quattro partite per il Rosso-Blu di Torrente che non vincono dallo scorso 19 di ottobre. Il punto dall'esperimento della doppia punta alla necessità degli esterni in campo, Ucadda e la chance per Spalluto. Questi tanti temi analizzati nel punto oggi sul Corriere di Luca Mercadini e Luca Mercadini mi serve anche per l'assist, ricordando a tutti l'appuntamento di stasera, ore 21 con Fuori Gioco, il talk show sportivo che parlerà proprio del Gubbio, di quello che sta accadendo in Casa Rosso-Blu, ci sarà anche Luca Mercadini a parlare questa sera proprio sulla nostra frequenza, assieme anche a Federico Minelli e ovviamente avremo anche ulteriori approfondimenti in vista della prossima gara con la Viterbese. Oltre che il punto di quello che è successo contro la Lucchese, che facciamo però già nel servizio, sentendo poi anche uno stralcio delle dichiarazioni post-gara di Mister Torrente. Al Barbetti scontro play-off tra Gubbio e Lucchese per il 14esimo turno del girone BDC. 4-3-1-2 per Torrente, Orfano tra gli altri di Bulevardi, con Arena sulla trequarte a supporto di Magni e Sarao. Stesso modulo per Pagliuca con Belloni a ridosso di Semprini e Fedato. Ed è proprio l'ex di turno, peraltro ancora di proprietà Eugubina, a provarci con il destra giro al decimo, ma la sua conclusione è telefonata per Ghidotti. Passa un minuto e mezzo e un triplo flipper aereo cittadino Arena-Sarao consenta Magni da destra di mettere in mezzo. Bacchini contrae lo stesso Sarao, ma sul palo lontano c'è Saimmasa che calcia di sinistro al volo. Coletta è reattivo e sventi il pericolo. Al diciassettesimo, da una palla sporca di Aurelio, Frigerio vince il duello aereo con Cittadino. 1-2 con Semprini che con un sontuoso tacco serve ancora il 16 ospite. Sinistro fuori equilibrio sull'esterno della rete. Pagliuca perde proprio Semprini per infortunio. Dentro Visconti con Benzaia che avanza sulla trequarti. Al trentunesimo il noè entrato mette in mezzo da destra un cross col contagiri. La difesa Eugubina si dimentica di Frigerio che incorna rete. Sfera che sbatte in pieno sulla traversa con il possibile tappin di Fedato, comunque chiuso da Ucadda, fermato poi dall'assistente Fragetta di Catania per fuorigioco. Al trentacinquesimo una ripartenza. Fulminea vede Visconti verticalizzare a tutto campo per lo scatto di Fedato che tallonato da Ucadda ci prova con il Mancino in diagonale che si spegne però a lato. Al primo dei tre di recupero, Magnì lotta in aria e serve a ridosso Sarao. Mancino deviato dai clou di poco alto sopra la trasversale. Finisce a reti bianche la prima frazione e ad inizio ripresa Pagliuca inserisce Gibilterra per Benzaia ma dopo pochi secondi è Aurelio a sfondare fu la sinistra. Cross forte al centro, Magnì è anticipato da Coletta e Sarau chiuso dal salvifico Tekel di Bellic. La gara resta equilibrata ma senza grandi squilli in zona gol. Nel gubbio fuori Saimasa e Arena, dentro Fantacci nel ruolo di Mezzala ed Amico. I rosso-blu hanno il predominio territoriale ma la gara è bloccata. Servirebbe un episodio che potrebbe materializzarsi al minuto 83. Corner di cittadino, Redolfi stacca sopra tutto e tutti e piazza la palla all'incrocio. Riflesso superlativo di Coletta che salva i rossoneri. Finisce dunque 0-0 per il secondo pareggio consecutivo di un gubbio che sa la quota 19 punti. Sempre una lunghezza sopra la lucchese restando a contatto della zona playoff ma il contempo senza vittorie dallo scorso 19 ottobre. Domenica prossima, ore 14.30, trasferta a Rocchi contro la Viterbese dell'ex Meghelaitis. Fanalino di coda del girone. Il primo tempo non è stato bello. Abbiamo creato poco, abbiamo subito la loro aggressività, anche qualche loro ripartenza. quando siamo andati a prestare alto e abbiamo rischiato, se non sbaglio, con quel colpo di testa. E mentre nel secondo tempo, bene. Cioè bene abbiamo, credo che la lucchese non abbia mai surreverato o poche volte la metà a campo. Noi abbiamo avuto qualche situazione che potevamo sfruttare meglio. Quella palla inattiva, il loro portiere è stato molto bravo sul Redolfi. Era una partita equilibrata, si sapeva che era una partita difficile con una squadra rognosa, una squadra che fisicamente stava molto bene, ci ha aggredito. Però noi nel secondo tempo siamo venuti fuori anche noi fisicamente. Abbiamo fatto tanti errori nel primo tempo, proprio di passaggi e soprattutto di scelte. Quindi questo ci penalizza un po', anche nel secondo tempo, qualche cross, qualche passaggio, scelta di verticalizzare, invece giocavamo in ampiezza. Errori anche a un metro, questo diventa difficile poi costruire una manovra. Merito degli avversari, ma anche di merito nostro, dobbiamo senz'altro migliorare a livello di palleggio e a livello di scelte. Questo dunque il film della partita, riassunto con anche una sinossi del pensiero di Torrente, che vedremo nel dettaglio stasera, ore 21, FTRG, fuori gioco. Ma restiamo al Corriere dell'Umbria, ma passiamo al volley. La Sir con la premiata ditta, dopo il 3-0 a Milano, Plotnischi ha acclamato MVP, Piere degli Ace, dedicati ai Sir Maniaci, ricicli 13 punti con il 60% in attacco, giocare contro di noi a Perugia sarà un problema per tutti, dichiara l'opposto ex Lube. Ma coach Gerbi ci ambonisce, siamo partiti lenti, in Italia spesso non te lo puoi permettere. Siamo comunque in crescita grazie ad allenamenti intensi, dichiara il coach serbo. E poi dai tifosi della Polonia a Gino Sirci, la maglia personalizzata della nazionale campione del mondo. Tornando al calcio, Serie B, ora è un grifo migliore. Alvini dopo l'1-1 nel test di Empoli, siamo in crescita, bene in mezzo al campo. Creiamo, ma ci manca qualcosa in fase di rifinitura, qui dobbiamo lavorare, ha dichiarato il tecnico del Perugia, che dopo la sosta affronterà nel prossimo fine settimana il Crotone. Da oggi parte peraltro la pre-vendita online dei biglietti, mentre le grifoncelle di C femminile sbarcano caprera, doppietta della scatenata Carboni. Per quanto riguarda sempre la Serie B, Malata e Hernana, mese di fuoco per le fere. Sabato arriva il Cittadella, poi trasferta a Lecce e incontri delicati con Frosinone e Benevento. Ecco il secondo Tour de Force dopo quello vissuto nella fase iniziale. Il ciclo sarà completato dal turno di Coppa Italia contro il Venezia in programma a dicembre. E poi l'iniziativa, Natale con il cuore, asta benefica per la gara allo stadio Penso. In C femminile la Solbiatese segna nel primo tempo e le ferele non riescono poi a recuperare sconfitta di misura in Lombardia per le Rossoverdi. Veniamo quindi in Serie D. Foligno, pareggio d'onore. Fucede tutto in quattro minuti. A dell'Orso risponde Enrico Bono dal dischetto. Sul capo del Poggi Bonzi, Falchetti riescono a strappare un punto alla terza della classe. Nella prima partita del nuovo tecnico Marmorini finisce dunque 1-1. Fragmine e Trestina non si fanno male. Pierotti poco convinti sotto porta. Finisce 0-0. Per quanto riguarda le altre umbre di D è show tra Tiferno e Arezzo. Ruggeri, Benedetti e Calderini portano in vantaggi locali ma il Cavallino risponde presente. Nella ripresa un rigore per parte, Bruschi entrata al 22esimo si fa cacciare solo dopo solo appena 10 minuti. In una gara pirotecnica al Bernicchi, tra Tiferno e Arezzo terminata 3-3. Dimostrato di essere una grande squadra, ha sottolineato il presidente Bianchi nel post-gara. Cannara, così proprio non va, il Rieti espugna lo Spoletini 1-0. Nemmeno l'espulsione di Canestrelli nel finale aiuta il club Umbro. Persa l'imbattibilità casalinga per mano del gol di Marcheggiani. Narduzzo fenomenale, Subazofia, Frustini e Fondi. Qui in foto il centrocampista della formazione rosso-blu di Brevi che mastica Amaro. Usciamo con le ossa rotte, ha detto il tecnico della formazione cannarese che avrà ora il derby con il Trestina. Eccellenza questa orvietana esagerata, set e match, scattini battuto. Segole all'assisi Subazio, scatenato Sciacca che firma una doppietta. Dunque finisce 6-1 per l'orvietana sull'assisi Subazio. Tre punti di vantaggio sulla Narnese di Sabatini, secondi in classifica sempre per la formazione orvietana. Ancora da Terni invece Tairus presa, ma scattano le proteste. Finisce 2-2 tra l'Olimpia Tairus e Sansepolcro, non senza polemiche. E poi Narnese con le unghie, Leonardo la tiene a meno 3, battuto il Bastia per 1-0. Cattino Rosso per Raccichini, reo di una gomitata a Cori e un errore di Alunni spiana la strada ai rosso-blu. Ancora Castelli del Piano, primo punto esterno della Nuova Nestor, finisce 0-0. A Gualdo Tadino, Giuliacci e Deiulis fanno grandi il Ponte Valleceppi che spugna il Luzzi 2-1 contro il Gualdo Casagastalda. Mentre Mago Gesuele e Mignone e Blizzi, il Massamartana sbanca 2-1, anzi 3-1, scusate, San Sisto. Per quanto riguarda invece il Castione del Lago, rialza la testa, la formazione lacustre 2-0. Fiorucci si che è il gol del vantaggio, per accalenti il raddoppio su rigore, battuta la Ducato Spoleto. Farsi fa un dispetto a Ciuccarelli, il Lama resta a meno 9 dall'Orvietana, finisce 1-0 con il gol su rigore di Valori. Menti il Branca fa tutto da solo, autorete di Gaggiotti e poi pari di Francioni a Santa Mere degli Angeli contro l'Angelana. Risultato giusto in casa De Giallo Rossi, espulso Marani per doppio giallo. Questo dunque tra Angelana e Branca, finita 1-1 in foto Emanuele Francioni che ha firmato il pari per la formazione eugubina. Quindi in promozione il Pierantone va sul Velluto, 3-0 sul Piccione, 1-1 Arna Casa degli Avolo, 2-1 dell'FC Castello sul Mantignana Montemalbe. Sempre in promozione Girone A, Mariani spacca Ventinella saldo al comando, finisce 1-0 sulla Tiberis. E poi ancora Mara San Feliciano-Tavernelle 1-1, il Montone batte 3-1 il Selcinardi nell'anticipo del sabato, mentre la Pietralunghese Forza 3 e la San Marco finisce KO in golla. Anche l'ex Branca Fumaria che ha sbloccato il match, le altre reti di manuali e Duranti per la formazione di Mister Tassi. In promozione Girone B invece Fondi Piucola, la legge C4, Cuccolo Giù, finisce 2-0 su Monte Castello Vibio per la C4 Foligno. La Emerina batte 1-0 il Campitello, 1-0 anche del San Venanzo sulla Vis Foligno. E poi ancora Derby Orvietano che finisce in parità, 1-1 tra Romeo Menti e Guardia. Terniesta che invece spugna 1-0 il campo dello Giulia Spello, 0-0 tra Pretrignano e Viole al Cicogna, mentre la Tetic Bastia batte 1-0, Superga 48 e il Monte Franco espugna 3-0 il campo del Clitunno. Poi tutti altri risultati anche delle formazioni giovanili sul Corriere dell'Umbra per passare, anzi tornare al Volley a 1 femminile. Santarelli è record mondiale. L'allenatore nella storia, domenica voglio il palazzetto pieno per scrivere insieme la 74esima vittoria. Conegliano, il tecnico Folignate che allena proprio la squadra di record, e guagliano il primato di successi di fila. 73 come quelli del Vakif Bank, per quanto riguarda questo record di Daniele, che Daniele Santarelli è riuscito a condurre in porto con l'imbattibile Conegliano. Basket, Coppa Italia, gualdo ok nel derby giocato in casa con Perugia. Il frattano riesce invece ad arginare Porto Recanati. Incigold, Coppa Italia, UBS Foligno si qualifica per la Final Four. A due femminile, P.F. Umbertide, finale Amaro a patti. Troppe palle perse, sottolinea Cocce Staccini. Finisce 59-57. Sconfitta davvero. Arrivata al photo finish, quasi alla sirena, per la formazione di Cocce Staccini. La bottega del Tartufo si ferma dopo tre vittorie consecutive. Ottima prestazione di Stroscio qui in foto, autore di 20 punti, autrice di 20 punti. La 3M intanto del Valle fa percorso netto in B1 femminile e Cinquina è primo posto in classifica. Ancora il podismo Tamburi e Loita Niang da favola, la portacolori dell'Avis Perugia e l'atleta della Tix Fitness Corciano senza rivali all'Astra Quasar. La quarta edizione è stata quella della ripartenza, i due big concedono il bis dopo i successi del 2019. Quindi nel tennis, Next Gen Junior batti in trionfo, Umbria al top. La portacolori del Tennis Training domina nell'Under 12, Crasselli dello Junior Re d'Argento nell'Under 10 maschile. Ancora tennis a uno maschile, passare soci, capò a Forte dei Marmi. La salvezza ora passa per i play-out per quanto concerne lo Junior Tennis Perugia. A due femminile c'è un punto per Pizzoni e compagni, la formazione Folignate. Calcia 5 a due femminile, l'atletico Foligno si prende il derby, vittoria per 4-1 sul Futsal Perugia. Calcia 5, Serie C1, Gaccio e Grifoni insieme in vetta e sabato ci sarà lo scontro diretto. Questo dunque per quanto riguarda anche il Corriere dell'Umbria. Veniamo al Messaggero, il Grif è pronto per gli esami. Alvini promuove i suoi in vista del Tour de Force, colpito dall'atteggiamento di tutti dopo il test di Empoli. In arrivo 4 partite in 2 settimane, 8 in 38 giorni, ma anche dall'alternativa ci sono stati segnali confortanti. Il centrocampo peggiore in fatto di gol è quello del Perugia. Gubbio frenata pericolosa, torrente perde certezze, si legge sul Messaggero. Dopo l'ultimo pari che abbiamo visto prima 0-0 contro la Lucchese per i rosso-blu. E poi ancora la MotoGP, abbiamo visto prima Valentino Rossi, ma anche Petrucci. Ora sogna invece la corsa nel deserto e anche per lui è stato l'ultimo gran premio nella MotoGP per il Centauro Ternano che si appresta ora a correre la Parigi Dakar. Noi sempre vicini siamo soddisfatti e guardiamo al futuro, dichiara proprio il papà di Petrucci. E poi ancora Ternana, sabato si torna in campo ma già si guarda a Coppa e Derby. Serie D, come abbiamo visto il Foligno è ancora vivo, dell'Orso sfiora il colpo, finisce 1-1 a Poggi Bonze, atteggiamento giusto per risalire, ha detto il tecnico Marmorini. Tiferna avanti tre volte, l'Arezzo lo riprende, una sfida tutto gas, 3-3, 0-0 per il Tresina con la Flaminia, mentre il Cannara cade in casa, passa il Rieti 1-0. Orvietana, primata suon di gol nel 6-1 con l'assisi Subasio, Narnese 1-0 sul Bastia, restano a braccetto a tre punti di distanza le prime due della classe di eccellenza. Castiglione batte 2-0 la Ducato, 2-2 invece per Olimpia Tyrus e Sansepolche. Poi Massamartana, Ponte Valleceppe e Branca, le tre sorelline che continuano comunque a ben figurare in campionato. Sir Conad, la testa subito a Ravenna, con Milano non c'è stato un buon approccio, pure la reazione ci ha fatto vincere, lavoriamo per crescere, ha detto Plotnischi. Ci hanno dato una grande mano i nostri splendidi tifosi, ha detto Ricicli, test difficile, superato bene, conferma Cocce. Gerbic, Bartocini forte in fissi, a Trento la sfida diventa una passeggiata, finisce 0-3, torna al successo dunque la formazione perugina che aveva questa sfida, salvezza importante contro Trentino. Nel basket Coppa Italia vincono Valdiceppo e Foligno, a Cea Regbi Fioroni tanto carattere, dichiara proprio il presidente della formazione reggbistica perugina. Chiudiamo dunque con, in questo caso anche, a breve lo vedremo proprio, l'approfondimento sul, appunto, eccolo, il QS inserto della nazione, Perugia all-in, 4 gare in 13 giorni. Dal match con il Crotone all'anticipo con il Vicenza, poche partite ravvicinate, danno sbagliare, 3 si giocheranno al Curi. Buone indicazioni da tutti, ma dobbiamo crescere in zona gol dopo la gara con l'Empoli, ha detto il tecnico della formazione perugina. Capone sì, Capuano non ce la fa invece per la Ternana, Lucarelli ora fa la conta, fitetti il recupero degli infortunati in vista della gara con il Cittadella dunque. E poi ancora, Malaccari, la sincerità del capitano, non ci riescono le cose di prima, parlando invece del Gubbio, dopo il pari a reti bianchi con la Lucchese, però è fondamentale rimanere sereni e concentrati, alla fine ci basterà un successo per ritrovarci pienamente, ha detto il capitano, che è tornato a giocare 90 minuti contro la formazione rossonera dopo l'infortunio che l'ha tenuto per oltre un mese ai box. 3-3, ricordiamolo, Tratiferno e Arezzo in Serie D, il Cannara perde in casa con il Rieti 1-0, Foligno 1-1 sul campo del Poggi Bonsi, mentre il Trestina impatta 0-0 sul campo della Flaminia. Blitz del Ponte Valleceppi, Giulio Gualdo Casagastaldi in eccellenza, 2-0 Cassione del Lago sulla Ducato Spoleto, 3-1 del Massamartana Sanzisto, la Larnese batte 1-0 il Bastia. Ancora l'Orvietana che gioca tennis, 6-1 sulla Subasio, 2-2 Olimpia Terus Sansepolcro, 0-0 Castel del Piano Nestor, la vittoria 1-0 del Lama sull'Ellera, 1-1 invece tra Angelana e Branca. E poi ancora fate largo alla Sir Perugia, e ora testa alla Ravenna, passando al Volle anche dal QS, la Bartocini fa festa, il riscatto è servito, Guerra e Nuacalor parlano dopo il colpo di Trento, in B maschile 3-2 per Sirzafe di Perugia contro Foligno, mentre in B1 femminile Lucky Wind e Trevi si arrende in 3-7 contro Casal De Pazzi, Perugia invece batte 3-0 per Alisi Pan e Iesi la 3M. e dunque torna a vincere. Straquasar è un successo, vincono Kibet e Tamburi, gara della ripartenza per quanto riguarda la corsa podistica di Corciano, Umberti De Beffata, Patti passa nel finale a due femminile di basket, poi grande equilibrio per il tennis Serie 1 a Forte dei Marmi, ma lo junior tennis Perugia cade ancora, e poi il rugby Serie A a Perugia costretta a fermarsi, la pausa non influirà, c'è l'impegno, sottolinea il presidente Fioroni. Siamo davvero in chiusura, dunque possiamo vedere soltanto anche il meteo con la pioggia che torna in maniera piuttosto insistente, con un conseguente abbassamento delle temperature. Inizio settimana nuvoloso, oggi anche se la colonnina di Mercurio non subirà particolari modifiche, ma il passaggio è una situazione climatica diversa in corso, tanto che per la giornata di domani sono previste piogge anche consistenti, così come consistente sarà l'abbassamento delle temperature. Dunque si prevede brutto tempo e anche temperature in calo in Umbria. E tutto, vi ricordo stasera a 19.30.20 il nostro TG sera, mentre alle 21 torna fuori gioco su TRG. TG mattina torna domani sempre dalle ore 7.30. Tutto per questo appuntamento, vi auguro buona giornata e buona settimana a tutti voi. Grazie a tutti.